Verrà presentato domani alle ore 10.30 presso l'Aula Consiliare Salvatore Saggese di Giffoni Valle Piana il progetto di screening e analisi epidemiologica delle patologie endocrine, metaboliche ed oncologiche nel comune di Giffoni Valle Piana. Un lavoro lungo svolto attraverso i protocolli di intesa siglati con l'ASL Salerno e il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Dontoiatria dell'Università degli Studi di Salerno. Il rapporto di collaborazione ha portato ad un'attività di ricerca in campo medico-sanitario, nell'ambito della quale è stato compreso lo studio epidemiologico analizzando la frequenza e la distribuzione delle malattie nella popolazione del comune picentino, valutando i fattori di rischio ad esse associate.